Ti dimostra essere vicino alle periferie? Sì, con il progetto Periferia al Centro noi andiamo a finanziare e ad aiutare le periferie geografiche e sociali. Periferie geografiche intendiamo soprattutto i comuni più piccoli, quelli più distanti dai capoluoghi di provincia, per periferie sociali intendiamo i quartieri popolari. E quindi questo progetto mira a costruire laboratori teatrali, ad avvicinare il teatro alle periferie geografiche e sociali. Per questo abbiamo una dotazione finanziaria di circa mezzo milione di euro che credo andremo ad implementare. Lo facciamo in collaborazione anche con le associazioni, le compagnie teatrali che potranno cofinanziare. E se questo bando avrà successo, scade il 23 settembre, non escludo che noi lo si possa anche ulteriormente finanziare per dare spessore alla cultura che deve guardare soprattutto alle realtà che sono maggiormente in difficoltà.